buongiorno guarda chi c'è e guarda chi c'è la dietro a noi guarda il microfonista della rai intanto diciamo subito che buongiorno e che natale si avvicina oggi è l'undici oggi è l'undici sei sicuro quanti ne abbiamo oggi 15 io sto quattro giorni indietro figurate oggi 15 quindi dieci giorni a santo natale e a me già sono arrivati dei panettoni dei fanno loro abbiamo già aperto a casa così è cominciata la il bailato quest'anno parecchio hanno cambiato la scatola parecchio quest'anno hanno cambiato la scatola tre marie non è più la madonna non ha cambiato la confezione la scatola tre marie non è più parecchi hanno cambiato la scatola i panettoni alle persone sono diverse al panettone sempre quello oggi è quello no l'immagine come si dice l'immagine l'immagine sempre di milano per l'immagine tutto è meglio cioè oggi conta più l'immagine che il prodotto senza il proprio buono ma l'immagine cambia e della gente pubblico l'utente il cliente il consumatore viene abbindolato dalla foto dalla bella immagine questo è il microfonista rai ci guarda con il suo come va tutto bene tutto bene la storia di francesco francesco sole francesco sole francesco sole ragazzi qua se ne parla agonia di francesco su vuol dire che una cosa è più importante lui mi ha detto a me che è sta storia di francesco sole commentare la storia di francesco sole è un po complicata ci andremo a infilare in una è una polemica c'è in atto una polemica una polemica con francesco sole con un ragazzo un youtuber chiamiamolo che fanno i video con la rete l'aria è appesa mia così quando uno si infila dentro gli affari degli altri esatto quello se no le leggi tendono l'ago ci infilano l'ago attenzione questo quando parla lui amici ma come la vedo io io sono per il vivi e lascia vivere no e chi fa cosa poi alla fine alla fine chi fa cose deve sempre rendere conto io non so voi della rete voi insomma voi nel senso di questo ma voi nel senso che ci vivete proprio a chi vi riferite se è pubblico come si chiama pubblico utente quello che è alla fine alla fine chi fa cose deve rendere conto all'utente una cosa che piace piace se una cosa fatta con inganno se ne accorgono se invece poi si crea intorno c'è la polemica allora quella si chiama grandissima pubblicità si parla tanto questa libertà del web la libertà di fare di fare tutto ognuno adesso mi venite a fare queste polemiche tutti io parlo di tutti eh in rete chiunque apre un computer parla insulta fa dice adesso che cos'è sta tutto questa cosa è forte sta cosa secondo me io sono un po c'ho un piede di qui e un piede di là secondo me siete tutti d'accordo tutti è proprio la rete che ha fatto questa operazione non si sa che cosa tu ce l'hai il libro di sole vedi che noi ne stiamo parlando noi ne stiamo parlando vabbè e noi chiudiamo l'argomento vivi e lascia vivi ma che bevrega ma ancora state a litigare dai e poi dite che quelli della televisione sono voi state arrivati ci siamo eh vabbè peggio di noi dietro un po' allora che santo è invece santa santa virginia santa virginia santa virginia bene auguri a tutte le virginia il mio invece quello del bar porta quello del bar cosa porta ma vediamo quello giusto vediamo quello giusto quello il mio santo santa virginia niente ieri avevano scritto su facebook sono tre giorni senza agonia tre giorni perché noi venerdì eravamo a milano sono stati un po' in giro a milano qualcuno mi ha visto a xfat la cosa di xfat è uscito dal cast di sanremo lo sai diciamo ottimo abbondante abbondante con 20 20 ce n'è per tutti i gusti anche divertente anche di moda tra virgolette c'è c'è anche fragola sai chi è fragola no non è mai venuto quello che ha vinto xfactor lorenzo fragola fa sapere un ottimo colpo per conti paolo conti che aveva la lista paolo conti guarda paolo conti è stato forte ha visto paolo conti con vincenzo mullica che stavi paolo veramente secondo me paolo conti quest'anno farà un buon sanremo sai quindi paolo conti noi ti facciamo gli in bocca al lupo non possiamo venire a stare un'altra cosa che vorremmo dire è che questa è l'ultima settimana anche di agonia perché noi il 19 finiamo e poi ci vedremo chissà dove io sono in preparazione di uno show insomma ci vedremo mi spiace molto ci vedremo a febbraio forse fine gennaio ogni tanto magari passerò da qua ogni tanto mi lascerò un po da solo come farò come farò come farò ecco vedi non sai quando sono toccato tutta la faccia si è venuta verso su ma guarda mettete così la vista è venuta tutto in su c'è vogliamo ricordare una cosa molto importante questa sera su orai 1 ci sarà un grande vento ragazza benigni 15 e 16 ritorno da ma è stasera 15 e 16 e quindi stasera ho detto giusto un attimo perché io sono convinto che oggi sia l'undici quindi questa sera ci saranno i dieci comandamenti primo primo comandamento non rubare è il primo non rubare i comandamenti il primo è classifica il primo pensa dio l'abbia messo per il primo forse per quello che tutti rubano proprio perché il primo capito allora dice onoriamo l'abbiamo ecco perché tutto adesso signore dio nostro forse come tu non commetti mai errore il signore dio nostro non commetti mai errore hai creato L'universo, il cielo, hai creato noi, agonia, hai creato tutti, ma quando hai dato le tavole a Mosè sul monte Sinaio... Le tavole, le costruirà le barche. Le tavole, non vuole barche, no, quelle no è. Un'altra parte, hai dato le tavole e hai fatto il primo... Ma siamo sicuri che il primo è un barco? Io non vorrei... Io mi ricordo che il secondo era Onore, il Padre e la Madre. Ma il primo, il primo, scusa. Stiamo guardando su... Stiamo guardando su Internet. Qual è il primo? No, non ci ricordiamo il primo. Perché se non rubare hai fatto un errore. Io non posso permettermi di dire, oh signore, hai sbagliato. Ma poi... No, il primo no, non avrai altri due colleghi. Era impossibile che... Non rubare il settimo. Non rubare il settimo. E ora vi spiego perché il settimo. Perché il settimo giorno Dio si riposò e mise non rubare, capito? Quindi si riposò, non ci pensò e non era attento perché si stava riposando. Si dice, no? Quindi non rubare... L'hanno presa la letta. Cioè non rubare la... No, non desiderare la donna degli altri. Quello è un altro? Desiderare la donna degli altri. E poi erano mascheristi. Non desiderare la donna... Dovevo dire che non desiderare la donna, è l'uomo, è la donna e il maschio, diciamo. La femmina e il maschio anche perché non è che solo l'uomo desidera la donna d'altro. Ci sono pure dei maschi che desiderano, scusa, ci sono pure delle femmine che desiderano l'uomo d'altro. Il maschio è lì. C'è la tra pizza bianca. Eh? C'è la tra pizza bianca. Si, ok, non ho capito niente. Oggi siamo stati un po' confusi. Però questa cosa così, guarda, questa, questa cosa qua, vedi? Questa è carina, perché è proprio assai di orsetto. Ciao. Ciao. Vabbè, domani siamo ancora qua. Oggi grandi ospiti e complimenti a Conti per il cast. E tutto. Oggi abbiamo parlato di tutti, Conti, Benigni, Francesco Sole, Sanremo, di cosa? Di Santi, di comandamenti, di tutto. Vabbè, signori e signori... C'è stata la cosa... Di che? Piazza di un Pietro. A Piazza di un Pietro. La benedizione. Fa così con le dita sotto, non lo vedo. Eh, di che cosa? Cos'è questo? La benedizione di questo? Per... Come siamo? No, non so cosa vuoi dirvi. È un bambino. Del bambinello? Ieri è stata la benedizione. È stato il bambino. Il bambino è otto a piazza. Ci sentiamo su Radio 1 alle 8 e mezza, fuori programma. Oggi avremo ospite, Suor Cristina. Vedi, parlavamo di Dio e chiederemo a lei dei comandamenti. Come se Cristina mi ha detto. Uno. Non tradirgli mai, affedente. Due. Non piangere. Tre, 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 quattro, non li amando. Il tre l'abbiamo saltato. Grazie, arrivederci. Canzone. Quando avrai le mani stanche, vai. Tu ti lascerai per le cose belle. Ti ringrazieranno, soffriranno per gli errori. A proposito, i cugini di campagna hanno perso il loro solista. Sono senza cantante. Eccolo qua. Fai l'anima mia con la voce sottile. Anima mia. Torno a casa tua, ti aspetterò. Dovrei stirare queste dura. Dovrei stirare queste dura, ha detto. Dovrei stirare queste dura. Dovrei stirare queste dura. È bellissimo. Cugini di campagna. È fortissimo. È un cugino di città perché vi va roma. Roma benissimo. Ciao. Ciao.